Eccoci a questa nuova puntata di Senza Sconti, la trasmissione che non le manda a dire a nessuno e che non fa sconti a nessuno. In questa puntata proveremo a non fare sconti a Marika Fruscio, ben trovata Marika. Ciao a tutti, ciao a tutti ben trovati. Allora, Showgirl, considerata la più giunonica delle corteggiatrici di uomini e donne, una carriera fatta di calendari sexy, siparietti comici a quelli che è il calcio, passando per il primo reality show di ragazze seminude, la famosissima casa delle Playgirl. Oh, sì, fatto, tanti anni orsoni. Eh vabbè, ora ti occupi di calcio principalmente come conduttrice, come ospite e grande tifosa del Napoli. E' finita su tutti i rotocalchi di gossip italiani per la Love Story con Pippo Inzaghi, che ha fatto un gran cancane. La buona, ecco. Una che ogni volta che apre la bocca combina solo guai. Ma non è vero. Eh beh, sì, dobbiamo dirlo. Mi state mettendo un'etichetta che non mi appartiene. Però devo dire che tante volte quando apro bocca poi se ne parla parecchio. Quindi, ecco, tante volte magari è meglio che me la cuccio. Ecco. Sei pronta a rispondere a tutte le nostre domande, a dire solo la verità e nient'altro che la verità. Allora, cominciamo con la nostra raffica di domande. Ti chiedo subito, chi è il politico più affascinante, secondo te, in questo momento in Italia? Ma a me piace molto Pier Ferdinando Casini, nonostante non sposi comunque in pieno le sue idee, però... Perché che c'ha Casini, che c'ha Casini? Ma mi piace la sua verve, comunque il fatto... Ma se è moscio, come la sua verve? No, non è vero, non è moscio. Beh, beh, moscio, lo sai te che è moscio, non è moscio. Come fai a sapere tu allora che non è moscio? No, non è moscio, comunque mi piace... Io guardavo la sua verve politica, un po' lento nel parlare. No, ma mi piace come si esprime in tv, mi piace il suo modo di esprimere le proprie idee, che comunque è un modo che per chi segue poi quella politica può veramente essere coinvolgente e può portarsi... Usciresti mai a cena con Matteo Renzi? No, assolutamente no. Perché? Perché non mi piace come personalità, io lo vedo abbastanza falsetto, mi sembra una persona che vuole nascondere parecchie cose, promette tanto e poi... Ma di fisico, di fisico? No, non è proprio il mio tipo. Non è come il tuo tipo? No, non è il mio tipo. Ma no, non mi piace fisicamente, insomma, non risponde ai requisiti del mio uomo ideale. E allora meglio una cena con Berlusconi allora? Ma neanche lui. Perché? Ma no, ma no, ma no, ma no, ma piuttosto andiamo, appunto, persone come Pier Ferdinando, mi piace anche molto Rutelli, insomma, ci sono altre persone... L'uomo piacente proprio, tu lo vuoi fisicamente da un uomo. Sì, mi piace l'uomo che comunque mi possa attirare per qualche cosa, anche estetica, tutto sommato, anche l'occhio vuole la sua parte. Senti, che cosa pensi degli uomini di 80 anni che magari hanno una relazione con donne più giovani, anche magari di 50 anni, per intenderci? Beh, io penso che ci siano altri interessi dietro. Come? Cioè, se una ragazza giovane sta con una persona molto più grande, naturalmente non è attrazione fisica, può darsi che ci sia della stima. Come naturalmente? Non c'è amore? Ma io ritengo che l'amore è una cosa che va oltre l'età, ma non troppo oltre però, cioè perché uno di 80 anni che si mette con una di 30, insomma, non so che poi parametri di... possono avere in comune, ecco, due persone appartenenti a epoche e aeree completamente diverse. Quanti anni aveva l'uomo più adulto con cui hai avuto una relazione tu? 45. Ah, un giovanotto allora. Un giovanotto? Ma certo, ma non vado a prendermi i decrepiti. Sopra i 45 niente. No, no, assolutamente. Ma allora, Francesca Pascale, secondo te la donna giusta per Berlusconi? Ma, insomma, lei ha fatto una scelta più che col cuore, con la testa e è andata dove, insomma, gli ha fatto più comodo. Ma quindi anche lì dici che non c'è amore? No, non c'è amore, no, ma assolutamente. Ma che amore? Ma va, dai, non siamo lì a... Cioè, no. Quindi, secondo te, tra Berlusconi e la Pascale che cosa c'è? Interesse. Da parte di chi? Soprattutto da parte di lei, naturalmente, nei confronti di questo uomo che comunque è politicamente forte e forte economicamente, può dargli delle possibilità lavorative importanti e degli inserimenti giusti che possono fargli comodo alla signorina Pascale. Senti, tu abiti ad Agratebrianza. Esatto. Che sta a pochi chilometri ad Arcore. Sì. Non ti sarebbe piaciuto partecipare a una delle famose cene eleganti? No. Perché? No, perché, ma guarda, fondamentalmente, io ritengo che una persona può arrivare dove vuole. Non sei mai stata invitata? Ma, guarda, non ti dico che non sono mai stata invitata, non ho mai accettato. Ah, sei stata invitata? Sì, ma poi ci sono persone che comunque riescono magari ad andare avanti, seppur con difficoltà, senza spinte così importanti. Poi io non sono neanche una che me la passa male economicamente, per cui non vedo perché, devo andare a partecipare a dei festini che vanno contro magari la mia morale e... Io ho parlato di cene eleganti, però. Ma, sì, insomma, cene eleganti, secondo il tuo punto di vista, secondo il mio, eleganti, 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 non c'è niente. Tu mi hai detto che gli inviti li hai ricevuti, chi te li ha fatti questi inviti? Ma, gli inviti mi sono stati fatti, naturalmente si ceda il nome e il cognome per una questione di privacy, per non rischiare magari poi nel cadere, nelle querele, però... Personaggi famosi? Ma, sì, ragazze che comunque hanno frequentato e che comunque mi hanno invitata a parteciparvi, però, insomma, dall'invito poi una può decidere in base alla propria testa. Io ho una testa, grazie a Dio, che pensa e pensa che comunque forse il gioco non ne valeva la candela. Quindi non ti hanno mai invitato Emilio Fede o Lele Mora? No, assolutamente no. Erano altre ragazze, famose. Sì. Ti hanno detto, Marica, perché non vieni anche tu a cena da Silvio? Esatto, sì. E tu hai detto? No. No? Anche perché su di me non troverete mai niente che riguarda queste cose, questi scandali, per cui non... Beh, tu sei il protagonista di altri scandali. Io ho altri scandali, ma tutto farina del mio sacco, tutta farina del mio sacco, prometto e giuro. Senti, ma se fossi andata a una di queste cene eleganti, da cosa ti saresti travestita? Perché tu, a uomini e donne, andavi travestita da infermiera. Sì. Lì te l'ha rubato qualcun altro il costume da infermiera, il bonga bonga? Ma guarda, da infermiera perché ho voluto magari riprendere un po' quello che è invece la mia passione lavorativa prima di partecipare alle trasmissioni tv. Io sono diplomata in economo dietista, quindi per cui sono una figura paramedica e ho voluto un po' giocare su questa cosa. Quindi mi sono vestita da infermiera, un po' provocante, quindi giocando un po' con le mie forme. Per un bonga bonga invece quale sarebbe stato il costume ideale? Non ci sarebbe stato costume perché non ci sarebbe stato bugga bugga. Per cui mi vesto a carnevale prossimamente. Ancora da infermiera? No, no, cambio. Basta, l'infermiera non è stupato. Da che cosa quest'anno? Super Mari. Super Mari. Sì, ho preso già un costume molto carino che poi metterò sui miei social. Insomma, Super Mari perché comunque sono un personaggio un po' borderline, un po' sopra le righe, un po' esuberante, però questa esuberanza rimane davanti al teleschermo, sui social, magari con delle foto un po' piccanti, un po' accattivanti, però tutto sommato nella vita sono una persona normalissima. Le donne per far carriera in politica devono darla via? Ma no, non lo so, ma in politica no, perché poi fondamentalmente... Per far carriera però in politica. Ma poi lì ci sono anche lì tutti questi sotterfugi che io non so, non ti saprei neanche dire, però secondo me una donna che poi impegna anima e corpo in politica deve essere anche una donna che poi quando va lì sa il fatto suo, quindi sa parlare, sa esprimere concetti inerenti alla materia. Quindi secondo me una che poi vuole intraprendere quel campo deve avere le nozioni e le conoscenze giuste per poi andare avanti in un percorso dignitoso nel campo politico. Quindi la vedi all'acqua di rosa, diciamo così, hai l'occhio innocente. Non voglio mettere la mano sul fuoco che anche in politica non ci siano dei sotterfugi, però questo non te lo so dire perché effettivamente non ho mai partecipato. Senti, ti è mai capitato di cedere alle lusinghe di qualche potente per lavorare? No, assolutamente, se no sarei a dirigere Mediaset, ti dico io. No, nel senso, io ho fatto un percorso molto regolare, sono dove sono per aver usato bene il mio corpo unito alla mia mente, quindi il fatto comunque di esporre in maniera così palese un fisico così importante, però sappiamo che se poi non ci sono delle basi conoscitive, della sostanza... La nostra domanda della redazione che ti interrompe, eh guarda, hai mai fatto sesso con qualcuno per poter lavorare? Nein, no, te lo dico in tedesco, tedesco imperativo, nein, no. Ma ti è stato mai richiesto? Ma guarda, ci sono state comunque degli avans, perché comunque essendo anche una ragazza molto esposta, con un fisico che probabilmente può anche ingolosire. Ah, ingolosire? Sì, certo, però dopo ti ripeto, essendo una ragazza anche non con l'acqua alla gola, a livello anche economico, ma anche a livello proprio, sono sicura molto delle mie capacità, perché sto in tv con fisico e cervello, per cui ritengo che forse il mio percorso sarà più lungo, dovrò salire più scalini, ma è pulito, nessuno può mettermi il dito contro. Hai mai avuto tra i tuoi amanti un politico? No, no. Ma ti manca proprio tutto, ti manca? No, politico no, se mi parli di calciatori ti posso dire sì, Adesso ci arriviamo anche ai calciatori. Se mi parli di altri ti posso dire sì, ma politici no. Politici no, ecco perché altrimenti ci sarei a Mediaset, a dirigere Mediaset. Senti un po', per chi hai votato alle ultime elezioni? Ah, io ho votato Lega. Lega? Sì. Ma scusa, come Lega? Ho votato Lega. Cosa c'entra una tifosa del Napoli con la Lega Nord? La fede calcistica non c'entra con la fede politica. Io l'ho votato Lega e l'ho sempre detto per diversi motivi. Il primo, perché sono contro l'immigrazione e quindi questo fare entrare gente che poi non ha documenti, non ha dei requisiti giusti per poter stare nel nostro paese. Quindi noi siamo soggetti specialmente a Milano, veramente a delinquere, soggetti a queste persone che comunque vengono qui con la fame veramente... Ma Matteo Salvini ti piace o no? Ma è un leader, secondo me è un leader, una persona molto carismatica, una persona che si sa imporre nel panorama politico. Ecco, a cena con Salvini. Ma a cena con Salvini ci andrei, però poi vorrei sottolineare due cose con Salvini. Cioè il fatto che questo... Perché quest'odio nei confronti del sud, di Napoli, queste battutine, ecco queste cose qui non mi piacciono. Io ho votato Lega per un motivo in particolare che tocca la realtà del nord. Quindi questa immigrazione, questa violenza da parte di queste persone che arrivano, stuprano le ragazze, violentano, vanno a rubare dentro le case. E noi al nord che viviamo al nord non siamo sicuri. Tu faresti mai politica, Marica? Faresti mai politica tu? Ma io non ho le conoscenze giuste e gli strumenti giusti per far politica. Però posso scendere in campo come cittadina a dire la mia. Ecco, quello potrei anche fare. Ma se ti venisse chiesto? No, non è il mio campo, insomma, io trato sport... C'erano tanti personaggi dello spettacolo che hanno fatto politica, però sono incapaci. A parte quello, ma mi sembra ridicolo che uno che non sa niente, non mastica niente di questo argomento, che scende in campo e dica due cose popolari che possono dire anche... Quindi se la Lega ti chiedesse, Marica, abbiamo bisogno di te per il sud, sai che adesso... No, io ti dico che sposo alcune idee della Lega, ho votato Lega perché sposo questa lotta contro l'immigrazione clandestina, il ritorno della Lira, il ritorno appunto del fatto che l'italiano è padrone del suo paese, quindi è all'italiano che prima va il lavoro, vanno le pensioni, vanno determinati diritti. Poi, se c'è qualcosa in più... Ancora la nostra redazione, cambi canale quando in tv vedi Barbara D'Urso, Maria De Filippi o Federica Panicucci? Barbara D'Urso. Barbara D'Urso perché non la sopporto. Perché non la sopporto? Ma no, non la sopporto, a me non piacciono quelle facce di convenienza, non mi piacciono le bandiere, mi piace una persona coerente, una persona che quando si parla di avvenimenti, scusate, di avvenimenti catastrofici... Dice che è falsa, Barbarella. Ma sì, certamente. Fa bene l'ordine dei giornalisti a volerli... l'ha denunciata l'ordine dei giornalisti addirittura? Ma io penso che abbiano fatto la cosa più giusta possibile, perché comunque quando uno sta in televisione e tratta certi argomenti non si può riderci sopra, far certe facce di convenienza oppure finti moralisti. Ma se ti invitassi a pomeriggio 5? Ma io a pomeriggio 5 sono già andata, ho anche avuto una mezza discussione e non ci rivado più. Come una mezza discussione. Eh sì, certo. Con chi? Con lei? Sì, quando c'è stato, diciamo, quella famosa vicenda con Inzaghi, lei mi ha invitato lì a tradimento facendomi passare per quella che ha sfasciato una coppia. No, insomma, la coppia era già sfasciata. Lui e uno, come sappiamo tutti, che insomma, gli piace essere un vivere, no? Gli piace divertirsi, eccetera. Quindi io non ho sfasciato niente, era una cosa che già non andava tra loro e poi ci sono subentrata io in questa storia e vabbè. E ti ha fatto passare per una poco di buono. Una poco di buono, cosa che invece io penso che... Quindi digli a Barbarella se ci sta vedendo, Barbarella questo non si fa. Questo non si fa, Barbarella. Poi vedi che poi vieni accusata dall'ordine dei giornalisti, ti fanno le polemiche, evita, no? Eh, scusami. Siamo donne, vogliamo se bene. Volevo se bene anche tra donne. Hai mai fumato uno spinello? Mai. Sono contro le droghe, sono contro qualsiasi forma di utilizzo di sostanza che possa danneggiare il cervello. Quindi nella famosa discussione che è sempre in corso e non si arriva mai a capo di niente sulla legalizzazione delle droghe leggere, tu come la pensi? Contro. Contro. No, no, assolutamente. La droga è una cosa che fa male, è una cosa che uccide, non va bene. Bisogna fare una politica contro queste sostanze che innanzitutto alimentano la criminalità. E seconda cosa, fanno male, portano a morte. Senti, dici la verità, dici la verità. Tu di Camerini ne hai girati tanti per i lavori che hai fatto. Sì. Da quelli di Rai, a quelli Mediaset. Ho ricordato prima tutte le trasmissioni che hai fatto. Ma in quei Camerini girava droga? No, assolutamente. Io vado lì, faccio il mio lavoro e torno a casa. Cioè non sono una che frequenta certi ambienti, certi giri, certe feste. Vado lì, faccio il mio lavoro, torno a casa. A casa ho la mia vita, ho i miei amici, ho le persone a cui voglio bene, faccio una vita tutto sommato regolare, televisione una cosa, poi vita privata un'altra. Qui non hai notato niente. No, assolutamente. Senti, hai parlato prima di questa storia che ti ha portato veramente su tutti i giornali della cronaca rosa con Inzaghi. Ma è tutto vero quello che hai raccontato o hai raccontato qualche palla? No, tutto vero. Io sono una persona troppo trasparente che sinceramente tante volte per la mia troppa trasparenza rischio di essere antipatica e poi naturalmente ho tutte le conseguenze. Cioè nel senso mi mettono i bastoni tra le ruote per quanto riguarda la carriera. Questa storia ti ha danneggiato o ti ha aiutato nella tua carriera? Ma ne ha danneggiato e ne ha aiutato. Cioè questa è stata una parentesi mia personale, una storia sentimentale, una storia che comunque, insomma, tutto sommato, anzi, io penso che non mi abbia neanche tanto favorito, a dirti la verità. Quindi più danneggiato che favorito. Sì, certo. Ma non ti senti in colpa per l'avventura? No, perché? Ma la loro storia, ma, cioè, ascoltami... Vi siete mai parlate dopo questa vicenda? No, no, ma poi non mi interessa neanche. Non l'hai mai incontrata? Ma chi la conosce? Ma chi la conosce? Ma no. Inzaghi l'hai più risentito? No, no, assolutamente. Manco lui? No, 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 niente. Finita male allora? Ma finita male. Con tutti gli strascichi che ci sono stati? Ma finita male nel senso che comunque è una storia che è iniziata e finita, poi è andata un po' sulla bocca di tutti, ma tutto sommato io non c'ho niente contro Filippo, però, sai, quando finiscono male le cose, anche nelle relazioni normali, magari meno in vista, poi uno può anche non parlarsi più. Ma ce l'hai ancora il numero di telefono di Inzaghi? Ah, pure quello è cancellato. No. No, no. Quindi, sparito, basta. Sparito tutto. Archiviato, archiviato. Senti, ma quindi era una storia d'amore vera o era solo sesso? Perché tu mi hai detto, lui era un viveur. Ma guarda... Da parte tua, quantomeno. Ma io do un'importanza forse troppo accentuata alla vita sessuale, quindi secondo me se due persone vanno d'accordo a letto c'è già un bel 50% di riuscita nel rapporto. Certo, c'era una bella intesa, devo dire che... Sensuale, abbiamo detto. Sì, però era anche una persona simpatica. Io non posso dire, Filippo non era una persona simpatica, una persona con cui si ci poteva parlare. Non posso parlare male di lui. È una cosa che... Quindi, facevate sesso e andavate anche a cena? No, no, no. Facevate sesso e andavate anche al cinema? No, 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 no. Solo quello? Quello, poi stavamo a parlare anche di calcio, per carità di Dio, ma io, guarda, ho aperto, ho chiuso a parentesi e non ho niente più da dire su questa cosa, anche perché adesso ho un'altra relazione. Ah sì? Certo. Sei fidanzata adesso? Certo. Oh mamma mia, adesso allora arrivo a chiederti di chi si tratta, se lo puoi dire. No, no, no. Senti, qual è la proposta più indecente che hai ricevuto? Perché se adesso mi dici che non ha mai ricevuto delle proposte indecenti, io non ci credo. Stai dicendo una bugia, bisogna essere sincera. Ma no, le solite cene, insomma, vieni a cena, parliamo un attimo, sai, io potrei offrirti qualche cosa lavorativamente parlando di più, di più importante, di più, beh, solite cose. Ma è proprio banalità allora. Ma sì, ma poi... Nessuno è stato un po' originale con te? No, un po' piatto, piattume. Devo dire che bisognerebbe un attimino cercare di... Ecco, oh mamma mia. Ecco, altra domanda. Il tuo seno è naturale o rifatto? Guarda. Beh, tu sei la più giononica delle showgirl italiane, devi rispondere a questa domanda. Ma ragazzi, è naturalissimo. Naturalissimo? Sì, certo, il fatto che comunque scenda in questa maniera così prepotente vuol dire che è naturale. Confermo di aver rifatto il naso, la blefaro inferiore perché avevo degli occhiai e purtroppo ereditarie, perché anche mio padre e mia madre hanno degli occhiai, essendo, diciamo, persone del sud, hanno i lineamenti molto marcati. Questo sembrava appunto che mi dava un viso molto stanco. Allora ho deciso di fare la blefaro inferiore. E ti è riuscita bene perché mi sembri... Sì, adesso mi sembra abbastanza. Ma la misura, si è mai capita la misura di sto seno? È una quinta coppa D, cioè l'ultima coppa della quinta, una sesta. Ah, una sesta? Sì, esatto. C'è anche una misura superiore volendo? Beh, sì, ci sono, beh, sai, di una taglia, poi ci sono diverse coppe in base alla circonferenza del busto, insomma. Noi abbiamo la coppa massima e chi ce l'è? Coppa massima, parliamo di sesta, quinta coppa D, ma andiamo sulla sesta. È praticamente una sesta naturale, di cui vai orgogliosissima. Vado orgogliosa, sì, perché con tutti questi seneri fatti io penso che qualcosa di naturale possa essere molto più gradito. Tra le donne dello spettacolo, secondo te, chi si è rovinata a furia di rifarsi, diciamo così, oppure utilizzando... Beh, la Mori c'è l'esempio più classico, dove lei è partita, secondo me, da una Ferrari, è andata indietro e è arrivata una 500. Sì, perché comunque lei era molto bella, era molto, anche il viso era molto bello, molto, secondo me era una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Questa chirurgia, soprattutto in faccia, l'ha molto rovinata e veramente ha fatto molto male, molto, molto male. Con quanti calciatori, oltre a Inzaghi, hai avuto una relazione, un flirt? Beh, ma voi siete troppo curiosi, troppo curiosi. Sono stato fin troppo buono fino adesso, quanti? Oddio sta contando. Eh, aspetta che sto contando, aspetta. Ah, non sono tanti. Un sei. Sei? Sì. Di che squadre, senza entrare nel... senza fare nomi, dai, non facciamo i nomi, ma sei. Ma A e B. Aspetta che mi metta a contare. A, sì, sì, allora, di serie A e di serie B. Serie A, serie B. Un metto, le squadre voglio. Uno. No, 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 no. Dai, almeno tre di sei. No, non posso. Dai! No, non posso, dai, Oliva, non mi metti così. C'è qualcuno dell'Inter? No, dell'Inter no, anche perché non mi piace. Della Juve? No. Del Milan? No. No. Eh, beh, sono anche altre squadre in serie A. Va bene, facciamo che me ne dici una, almeno una. Dai. Almeno una! Ho detto tutte e sei no, abbiamo detto, troviamo un compromesso. Diamo cristiano. Il Napoli. Il Napoli? Sì. Ma il Napoli di adesso o il Napoli di qualche anno fa? Del Napoli. Ma allora mi stai parlando della relazione di adesso? No, 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 quella di adesso no. Quella di adesso è un imprenditore, no? Una persona che non c'entra niente con il mondo del calcio. Apprezza la tua esuberanza, questo imprenditore? Molto, molto, sì. Ah, però, non ha niente da ridire. No, sai cos'è? Che quando tu dai un modo a un uomo di essere geloso, l'uomo diventa geloso. Ma tu quando non dai modo di... Eccola qua, la nostra domanda irriverente della redazione. I calciatori sono bravi a letto? Non tutti. Non tutti? Non tutti. Allora, aspetta, che devo capire. Eh, non tutti, perché poi ci sono quelli che... Che è successo? Sono quelli che sono più portati, sono quelli che invece sono più rapidi, sono quelli che basano il rapporto sull'egoismo, non facendo comunque divertire. Non ti facevano godere. La donna. E quindi, vabbè, insomma... Dillo esplicitamente. Sì, vabbè, poi tanti, sì, tanti bravissimi. Allora, aspetta, abbiamo capito che sono sei più uno, sette. Giusto? Sì. Sei più uno, sette. Allora, di questi sette, quanti erano bravi a letto e quanti no? Se, almeno, intanto abbiamo detto che non sappiamo noi... Ma dai, un cinque bravi e due... Un disastro? Scarsi. Due scarse. Proprio scarse. E cosa gli hai detto alla fine? Eh, arrivederci e grazie. Poi prendi il telefonino, tic, sparito il numero. Ah sì? Li hai cancellati così? Chiaro, ma... Allora, più di quello non ti possono dare, perché tanti non hanno argomento. argomenti, tanti sono abbastanza, tra virgolette, ignoranti, devo dire la verità. E quindi, se non ti danno qualcosa, magari, dal punto di vista sessuale, cosa vuoi che ti danno? Allora, a questo punto, prendi il telefono e dici, vabbè, non ne vale la pena. Quindi, eliminate questi due calciatori. Ma magari facciano anche gli sboroni, come si suol dire, cioè se la tiravano anche. Beh, guarda, sai, loro sono ragazzi più o meno giovani, che hanno il grano, quindi sono persone che stanno bene economicamente, possono avere quello che vogliono, chi vogliono, per cui, sai, un po' alteziosi lo sono. Però io sono più altezzosa di loro. E viva la sincerità. Senti... E quindi, o rendi o te ne vai a far bagno, cioè nel senso, con me è vita molto, molto breve. Quindi, quelli, i calciatori, non bravi a letto, li hai cacciati, anzi hai cancellato il numero e si è finita così. Certo, chiaro. Gli altri te li si è tenuti per un po'. Cosa vuoi che ti danno? Cosa vuoi che ti danno? No, no, lo so, dicelo tu. Senti un po', il Napoli quest'anno si sta comportando abbastanza bene, diciamo così, rispetto a tante altre squadre, rispetto alle milanesi. Beh, rispetto alle milanesi sì. Se dovesse vincere il campionato, il Napoli, Marika Frugio che cosa fa quest'anno? Beh, io ho già detto la mia promessa. Qual è? Mi faccio un mega scudetto fronte e retro. Cos'è fronte e retro? Total body, allora, con la tecnica del body painting, mi dipingo, anzi mi faccio dipingere perché io sinceramente non riuscirei da sola, uno scudetto davanti e dietro, quindi... E vai in giro nuda con lo scudetto davanti e dietro? No, in giro no, naturalmente tutto a livello fotografico. Ah, di foto, fai le foto, fai le foto per i tuoi fans. Sì, regalo questi scatti. Senti, qual è la cosa che odi di più di Napoli? Io non odio niente di Napoli. Beh, avrà un difetto Napoli? No, assolutamente no. No, pensaci bene, non sei sincera. No, no, invece sono sincerissima, io dico che Napoli è una città che a me mi ha stregata, una città che amo, mi piace, mi piacerebbe dirci. Beh, allora dei napoletani, dei napoletani, Marika, non mi puoi dire che i napoletani sono perfetti, anche lì, trovami un difetto ai napoletani. Io credo che ogni mondo è paese, ci sarà poi il napoletano con qualche difetto, come c'è il milanese con qualche difetto. Perfetto, appunto, siccome tutti hanno dei difetti nelle varie regioni, i napoletani che difetto hanno? Tu hai paura dei tuoi tifosi napoletani? Ma assolutamente no, no, assolutamente no, guarda, dicendo poi che guarda... Un difetto che hanno i napoletani? No, forse che mangiano troppo. Mangiano troppo? E mi fanno ingrassare pure a me. Ah, ti fanno ingrassare pure a te. Sì, no, ma non è un difetto, anzi un pregio. Senti, visto che prima hai detto io sono leghista, ho votato Lega e hai detto ammiro anche il segretario della Lega Nord, però quando il segretario della Lega Nord cantava lo stadio, senti che puzza, scappano i cani, stanno arrivando i napoletani. Ecco, io sono la prima che è andata contro questa cosa, perché non sposo quest'idea, non sposo i cori offensivi, nei confronti dei napoletani, ma anche nei confronti... a me non piacciono i cori razzisti, i cori di migratori, non mi piacciono queste cose. Riprendi Salvini, dai, fagli una predica, tu che puoi, da tifosa napoletana. Dimmi qualcosa, caro Matteo. Caro Matteo, evita certe cose perché non sono carine nei confronti di un popolo meraviglioso, di un popolo che comunque dà tanto, un popolo che comunque veramente è solare, simpatico, un popolo che ha tutto. E soprattutto se vuoi i voti del Sud, cosa deve fare Salvini? Guarda, io non penso che sia proprio questa la motivazione che gli direi, perché forse Salvini ha il suo pubblico, ha i suoi elettori, però è una questione proprio di morale, cioè una questione proprio etica. Non è giusto, questi cori non sono giusti, io non sposo questa linea politica, se poi da una parte invece sono a favore appunto della lotta contro l'immigrazione, la rintroduzione del... Marica, mi reciti l'inizio della Divina Commedia? Oddio, la Divina Commedia. Divina Commedia. Ma l'ho studiata ora, anni... Senti, cambiamo domanda. Dante Alighieri, almeno l'inizio. Dante Alighieri, la Divina Commedia. La sanno tutti. Andavo a scuola vent'anni fa, Fid, ma parlami di calcio. Nel mezzo? Ah, nel bel mezzo del cammin di nostra vita. Poi mi ritrovai? Mi ritrovai in una selva oscura. Ah, vedi che la so allora. E la selva allora ti è proprio, ma vedi che la sai. Senti, quanti uomini hai avuto nella tua vita? Beh, parecchi. Poi che sono stata innamorata pochissimi. Parecchi che vuol dire, scusa? Parecchi uomini, parecchie storie. Parecchie storie, ma... Ma possiamo quantificare. Sostanzialmente innamorata. Ma anche senza storie d'amore. E vabbè, non è che adesso te li conto. Ah, non li hai mai contati? Ma va, ma parliamo di... Ci sono quelli che fanno i conti. No, io no. Più o meno di 20, più o meno di 50, più o meno di 100. Ma no, dai, ma chi lo sa? Chi lo sa? Chi si ricorda, dice? Se mai una tua amica dovesse dirti, Marica, faccio la escort per mantenermi. Tu che cosa rispondi? Tu dici un consiglio che posso dare a questa mia amica? Io cosa ti posso dire? La vita è tua, fai quello che vuoi. Cioè, nel senso, se ti posso dare un consiglio, ti dico di fare altro. Ma se proprio hai una situazione così tragica, che hai bisogno di mangiare, insomma, questa è una scelta tua, io non metto bene. Si può comprendere, dici? Guarda, ognuno della sua vita, del suo corpo, fa quello che vuole. Io l'ho utilizzato per impormi nel mondo della televisione, in maniera abbastanza eccentrica, no? E magari qualcuna dice, io lo voglio usare perché ho bisogno, perché ho fame. Cosa gli vuoi dire? Non ti è mai capitato di avere amiche che fanno questo tipo di attività? Ma, sì, ci sono ragazze che non fanno solo quello, ma che poi qualcosa fanno per arrotondare, perché comunque abitano da sole, perché comunque ci sono delle spese folli. Sappiamo che Milano è una città abbastanza cara, per cui... Però capisci, ma non... Capisco, ma non è una realtà che mi riguarda. Senti, chi è il conduttore TV, uomo ovviamente, che ha fatto più il broccolone con te? Visto che hai fatto tante trasmissioni. Beh, conduttore. E dai, un nome ce lo devi fare stavolta. Hai glissato su tutti. E io corno, che non è un conduttore, ma è un opinionista, un mio collega, che mi sta sempre presso come una zecca, però lo saluto perché è una persona simpatica e non lo fa senza cattiveria. Sei mai stata vittima di stalking? Sì. Che ti è successo? Beh, soprattutto sui social parecchi uomini che cercano di... Insomma, veramente troppo opprimente questo affezionamento alla mia persona, quindi gente che mi scrive alle due, alle tre, alle quattro del mattino, mi scrive veramente delle cose forti, io ti farei, io vorrei... Si è mai arrivato a denunciare? No, a denunciare no, perché forse da una parte mi sento tutelata, perché sono dietro un pc, insomma, sono dietro uno schermo, per cui non mi toccano fisicamente e mentalmente, però certo che una persona che sta su Facebook, sul computer alle sei del mattino, alle cinque, ti scrive certe cose che magari ti scioccano un po', ci rimane un po', ci rimane un po' male. È favorevole ai matrimoni gay? Ma che facciano un po' quello che vuoi. Ma guarda, l'amore secondo me non ha sesso, nel senso io posso provare un immenso amore che va anche al di là poi della stima per una persona del mio stesso sesso. certo io, anzi, io sono ancora della vecchia parrocchia, mi piacciono ancora le vecchie cose. Ah, guarda, la nostra domanda è, hai fatto l'amore con una donna? Mai, mai, ma guarda. Ah, tu hai detto sono ancora della vecchia parrocchia, che vuol dire? Mi piace ancora? Io appunto dicevo che sono ancora della vecchia parrocchia, cioè mi piace ancora il buon vecchio manico, però voglio dire... No, ok, cos'è che vuol dire? No, beh, io sono sicura il buon vecchio manico. Ah, pur gesto. Ma sì, ma nel senso, però ecco non arriverei mai a rapportarmi così. Ma una donna ti ha mai corteggiato, per esempio? Ma certo, mamma mia. Beh, ecco, quelle sono le più tremende. Ah, sono le più tremende? Mamma mia. Che hanno fatto? Ma io mi sono trovata una certa mani in culo da una donna, cioè nel senso, ragazzi, non sono arrivati gli uomini a fare una cosa del genere, è arrivata una donna, veramente, ovviamente, c'è un apprezzamento così morboso in pubblico. E come hai reagito tu? Ma come ho reagito? Io l'ho tolta immediatamente, ho messo subito le cose in chiaro, e ho detto... Mi hai detto del manico tu. Io ho detto che mi piacciono ancora le vecchie tradizioni, e quindi insomma, togliere cortesemente questa mano, e che sono qua con delle mie amiche a divertirmi, e che non sono venuta qua per certo prendermi una bella mano da una donna. Ultima domanda, qual è il segreto che Marika Fruscio non ha mai confessato e che stasera ci dirà? Guarda, mi avvicino anche. Ma che probabilmente dietro questa corazza così prorompente, così importante e imponente, si nasconde veramente forse una persona un po' fragile. Perché se io ho dovuto impormi col mio corpo in primis per farmi conoscere, per farmi apprezzare, vuol dire che fondamentalmente ho nascosto dietro questo corpo quella che è la vera essenza di Marika, quindi quel lato fragile, quel lato romantico, quel lato anche bello, che forse in pochi conoscono, forse le mie amiche più strette, i miei amici più stretti, e che forse in televisione non si vede, perché la gente vuole altro, vuole vedere altro. Noi vogliamo vedere tutto Marika, di Marika noi vogliamo vedere tutto. Per chiudere, chi è sto imprenditore con cui sei fidanzata? È un imprenditore a cui sono molto legata, a cui voglio molto bene. Ma da quanto sei fidanzata? Ma quasi un annetto. Ah già un annetto? Sì. Dove l'hai conosciuto? In aeroporto. In aeroporto? Sì, stiamo andando a Napoli, ma innanzitutto con la sua timidezza, perché per approcciarsi magari a una come me, che all'apparenza è molto forte, io penso che un uomo timido per fare un passo così vuol dire che abbia avuto tanto coraggio. Quindi ho apprezzato molto, ho apprezzato molto anche i modi di fare, che sono ancora all'antica e io fondamentalmente mi piacciono ancora le vecchie tradizioni. Di che settore è sto imprenditore? È un industriale, lavora per il settore pubblicitario, quindi... Ma qui al nord? Qui al nord, sì. E dici sto nome oramai, hai detto tutto. No, assolutamente. È una relazione rimasta segreta? Segreta? E quindi me la vivo bene, sto bene, non ho bisogno di metterla in piazza, perché... Va bene, quindi niente copertine come con Filippo Insaghi. Assolutamente. Grazie a Marica Pruscio, Pruscio per essere stata con noi a Senza Sconti, facci vedere sto decoltè e abbiamo finito. Oh, eccolo qua. Grazie a tutti alla prossima puntata. Grazie a tutti.